Per Sportello Reclami siamo venuti qui da Roberto Alberti perché ha un problema, nel senso che lui vuole lamentarsi del fatto che il rally Ronde-Valtiberine praticamente non gli permette a lui, come altri residenti della zona qui di Badia Sanveriano e Toppole, non gli permette praticamente di raggiungere la propria abitazione. Roberto? Dunque, io mi dispiace fare questa protesta, però sono costretto a fare questa protesta a nome mio, a nome di tutti i residenti di Badia Sanveriano, quelli che hanno le case che vengono il sabato e la domenica, per questo rally che passerà qui sabato e domenica, che ci costringerà chiusi in casa, come si può vedere anche l'orario, il sabato ci chiuderanno in casa per 7 ore e la domenica per 12 ore. Io vorrei sapere anche chi dà questi permessi, perché le ritengo un po' dittatoriali a questo punto, io scusatemi, però le ritengo così, cioè questo qui il rally verrà da Poti, sarà chiusa questa strada, strada che alcuni di noi hanno anche delle proprietà, quindi non ci potranno accedere. La prova speciale finisce qui dove siamo noi e hanno proseguito, non lo so per quale motivo, forse perché la legge dice di prolungare ancora la strada chiusa per 600 metri, dove in questi 600 metri ci sono delle abitazioni, c'è una strada che porta delle abitazioni e oltretutto c'è un agriturismo, non so se questo agriturismo in questi due giorni poteva avere della gente o no, quindi la nostra protesta credo che sia una cosa normale, perché ci stanno chiudendo in casa, non possiamo svolgere delle nostre attività che svolgiamo in questa collina, diciamo, e poi c'è un altro discorso, come è stato giudicato di chiudere questo pezzo di strada quando il rally è svolto tutto in Valtiberina? Praticamente Roberto tu dici, qui siamo nel comune di Arezzo, il rally si svolge tutto in Valtiberina, dici, ah, dal comune di Arezzo questo non gli porta niente. Vedrò gli alberghi associati, sono tutti Sansepolcro, 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 Anghiari, Citerna, Anghiari. Quando, se si può spostare un attimo, si può vedere che loro potevano benissimo, visto che la prova speciale finisce qui, prendere la strada, questa strada, prolungare quello che è per legge, poi diventa una strada normale a senso di circolazione, cioè possono passare tutti, c'è una casa oltre un chilometro che non potevano creare più problemi a nessuno e andare benissimo, come si vede da questa cartina, andare benissimo ad Anghiari, ad Anghiari tornano a Arezzo e vanno a Sansepolcro. Quindi non capisco perché si devono creare questi problemi alla gente. La richiesta di Roberto è particolarmente forte, lui vuole che praticamente smettano di passare i rally qua perché anche la mole di macchine che passeranno lo considera un vero e proprio disturbo. Sì, qui è valutato dall'assessorato allo sport, 840 macchine che dovranno passare fra sabato e domenica perché sabato ci sono tre passaggi per le prove ufficiali e domenica quattro passaggi per la gara. Quindi io chiedo al Comune che questa storia deve finire e che le strade siano ripristinate a regola d'arte, se no sarà guerra. Roberto, tu parli a nome anche di altri residenti? Parlo a nome di tutti i residenti e di quelli che hanno le proprietà in Badia San Veriano. Sono stato autorizzato da loro, quindi hanno scelto me e io parlo anche per loro, non solo per me.